L'altra volta abbiamo visto gli articoli preliminari, oggi vediamo quelli che costituiscono il corpo centrale del trattatello per la pace perpetua. Sezione seconda, articoli definitivi per la pace perpetua tra gli Stati. Premessa agli articoli, Kant afferma che la pace non si ritrova allo stato di natura, anche se, come vedremo nel primo supplemento, la natura opera in modo che l'uomo possa essere messo in condizione di realizzare la pace perpetua. Essa, la pace, è un prodotto artificiale. Lo stato di pace deve essere dunque istituito e compete alla libera scelta dell'uomo. E qui siamo in linea con la visione di Hobbes. Lo stato e anche la pace perpetua come trattato tra Stati, in vista della nascita di una confederazione che assicuri appunto questa pace perpetua, è operazione assolutamente artificiale. Cioè, lo stato di natura vige, obbesianamente, il bellum omnium contra omnes. Tuttavia, si aggiunge in tra parentesi, tuttavia, la pace, anche se non è lo stato di natura, è comunque nelle corde, nella possibilità di essere realizzata naturalmente, se è vero che la ragione è un organo di cui l'umanità, l'essere umano, il singolo, è dotato per natura, se l'uomo usa la ragione, allora giunge, obbesianamente, a creare lo stato leviatano tramite contratto, nel senso kantiano, a realizzare questo stato, questa confederazione tra stati. Qui diamo per scontato che gli stati sono già nati, perché Kant si sta occupando qui di creare una confederazione, di immaginare la possibilità che si venga a creare una confederazione tra stati, perché tra stati, vi ricordo, che vige la stessa situazione che vige tra individui, obbesianamente, prima della nascita dello stato leviatano. Sono i singoli individui i quali fanno questo contratto, questo contratto fa in modo tale che essi si obblichino l'uno con l'altro a rinunciare allo strumento della violenza e quindi a far nascere lo stato civile, che poi diventa il leviatano di Hobbes. Tra stati, così nati, vige, continua a vigere, la guerra di tutti contro tutti. Infatti, una delle funzioni fondamentali del leviatano è quella di assicurare non solo l'ordine interno, ma anche la difesa contro attacchi che possano provenire da fuori. Vi ricordate? E quindi Kant qui sta dicendo, facendo un passo oltre, diamo per scontato che in natura non esiste pace, quindi guerra degli individui, tutti gli individui gli uni contro gli altri, questo stato lo abbiamo superato, oggi ci sono gli stati formati e dunque dobbiamo fare il passo ulteriore, cioè realizzare questa pace perpetua tra i singoli stati. È sempre una proposta filosofica, eh? Quindi è un prodotto artificiale e deve essere istituito dall'uomo. Compete la libera scelta dell'uomo. Che cosa significa? Significa, innanzitutto, che Kant non è contrariamente alla visione di un Rousseau, per esempio, o di chi in quell'epoca vagheggiava un ritorno all'età dell'oro. Voi sapete che nella visione occidentale ci sono due tendenze divergenti che hanno lo stesso obiettivo. L'obiettivo è quello di realizzare qui sulla Terra possibilmente una situazione ottimale. Ottimale vuol dire di pace, di prosperità, di abbondanza, eccetera, eccetera. Questi due stati, queste due situazioni, sono mitologicamente poste o all'inizio dei tempi, l'età dell'oro, il paradiso terrestre, e così via, oppure alla fine dei tempi. O all'inizio o alla fine dei tempi. Oppure in tutti e due i casi abbiamo una situazione all'inizio dei tempi, appunto il paradiso terrestre, che viene rotta, inizia la storia e la storia è tragica, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, tu Eva partorirai tra troci dolori, tu Adamo coltiverai il frutto della terra con il sudore della fronte, e poi c'è l'ammazzamento di Abele da parte di Caino, quindi nasce l'inimicizia, la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per parlare della Bibbia. Il punto d'arrivo, quindi c'è il paradiso terrestre, che è una situazione ottimale, che però è stata rotta, una volta per tutte, e c'è il punto d'arrivo, la fine dei tempi, che è il ritorno di Cristo, l'Apocalisse, i buoni e i cattivi, dopo un periodo di grande travaglio, saranno separati dal Dio che premierà i buoni e dannerà i cattivi che in realtà si saranno dannati da soli. Quindi la prospettiva salvifica è spostata alla fine dei tempi. Quindi abbiamo o una visione progressista fondata sulla speranza che è tipicamente cristiana e comunque Kant è cristiano, non può non essere cristiano, va da sé. Quindi questa è una prospettiva che poi si può anche sposare in senso laico, poi vi dico in che modo. Va bene? Per cui alla fine dei tempi c'è questa prospettiva e l'umanità, sempre cristianamente parlando, interagisce con il progetto divino, cioè con la provvidenza, per realizzare questo stato finale, la salvezza, eccetera, eccetera. Oppure l'altra tendenza è quella di ripristinare lo status quo ante, cioè di ritornare alla situazione, chiamiamola così, del paradiso terrestre. Abbiamo molti esempi, un esempio è quello, no, forse avete letto, Virgilio, l'ecloca quarta, ne avete mai sentito parlare? No, il puer di Linus, che poi è, altro non è che Augusto nella propaganda di Virgilio, anche lì si tratta di ritornare ai tempi, di ripristinare, nel caso di Augusto, i tempi gloriosi della Repubblica, per così dire, il mos maiorum, ma quella è propaganda. L'idea è che all'inizio dei tempi, comunque prima della situazione più o meno disastrosa dello ieri e dell'oggi c'è stata un'epoca gloriosa di abbondanza, di pace, di prosperità che va ripristinata, va bene? Quindi questo ce l'abbiamo anche nel mondo pagano. La visione di Rousseau è laicamente simile a questo discorso che ho fatto a proposito di Virgilio, o a quello del paradiso terrestre. Cioè la situazione ottimale era quella che c'era prima nello stato di natura, che c'era prima della nascita della civiltà. E allora, contrariamente a Rousseau, che cosa significa? Che Rousseau rappresenta, sempre l'ambito del pensiero illuministico e così via, rappresenta la tendenza a ripristinare lo status quo ante. Cioè, a vedere nello stato di natura che in realtà non si può del tutto ripristinare, ma insomma si può tendere a ripristinare quella che era l'uguaglianza fondamentale di cui gli uomini godevano lo stato di natura prima dell'incidente che ha portato alla nascita di questa civiltà, di questa società che è basata sulla disuguaglianza, la proprietà privata, eccetera, eccetera. Kant invece è in linea sempre con l'altra tendenza che poi è quella predominante nel pensiero occidentale è invece dell'idea che alla fine dei tempi che progressivamente si arriverà ad una soluzione. Quindi partendo da una situazione tutto sommato negativa grazie sempre a Dio ma all'uso della ragione di cui Dio ha dotato l'umanità di cui Dio ha dotato i singoli individui si potrà arrivare progressivamente ma noi questa intelligenza questa ragione viva il Dio la dobbiamo utilizzare a questo fine si arriverà a migliorare sempre di più la società a migliorare sempre di più la condizione dell'umano finché ecco arriveremo ma insomma è un work in progress non c'è un punto d'arrivo si può tendere verso quindi quella visione di Kant è una visione progressista progressista quindi stato di natura situazione negativa guerra di tutti contro tutti l'uomo però è dotato di ragione quindi grazie alla ragione esce dallo stato di natura stesso schema di Ops fino a qui va bene esce dallo stato di natura e progressivamente sempre usando la ragione continuando a utilizzare la ragione tende verso una società sempre più civile sempre più evoluta dal punto di vista scientifico tecnologico e poi anche dal punto di vista umano civile sociale eccetera 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 quindi che garantisca il benessere non nel mondo che verrà nell'oltremondo ma qui in questo mondo che garantisca il maggior benessere ai più questa è l'idea quindi qual è la forma di stato qual è la forma di società è la forma di stato che garantisce tutto questo perché stiamo parlando sempre di politica poi la salvezza dell'anima ognuno si occuperà per conto suo e quello è un discorso che ribarda la religione Kant che pure è uomo di religione ben inteso in quanto filosofo illuminista si occupa di definire quali possono essere gli sviluppi progressivi di un miglioramento complessivo dell'umanità e Kant ha piena fiducia come tutti gli illuministi a parte quelli diciamo della razza di Rousseau che vi dicevo prima ha piena fiducia che utilizzando la ragione progressivamente l'umanità possa migliorare attenzione questa visione è rimasta praticamente fino all'altro ieri non è una cosa del tutto nuova noi ancora in qualche maniera riusciamo a concepirla anche se viviamo in un'epoca in cui effettivamente di fiducia nel futuro ne abbiamo sempre di meno ma insomma quell'idea che in qualche maniera è confortante entro certi limiti è confortante che ha preso il posto della religione che si basa sulla progressività delle conoscenze scientifiche e tecnologiche per cui oggi non so faccio un esempio banale quel tipo di malattie non si curano ancora ma domani grazie ai progressi della scienza questo problema sarà alla nostra portata lo potremo risolvere va bene oggi c'è ancora sono quasi utopie sogni del secolo passato oggi ormai probabilmente interrotti ma insomma l'idea anni 70 del ventesimo secolo la FAO la fame del mondo l'inquinamento vedrete utilizzando la ragione e ragione illuministicamente parlando vuol dire scienza tecnologia ricerca eccetera eccetera in tutti gli ambiti quindi quello tecnologico e scientifico ma anche quello sociale civile eccetera eccetera l'umanità non potrà far altro che migliorare certo siamo sempre soggetti alla morte ma la vita media si allungherà sempre di più questo può promettere una filosofia come l'illuminismo che è immanente ma questo lo può promettere vivremo di più in uno stato di benessere di welfare decisamente migliore i giovani avranno più possibilità in termini lavorativi in termini di autorealizzazione e potranno come recita anche la costituzione degli Stati Uniti d'America che è un capolavoro di epoca illuministica è stata scritta quando Kant sta concependo questa idea alla fine del periodo illuministico quindi ciascuno potrà ricercare la propria felicità bellissimo un mondo così inteso è un mondo bellissimo ed è questa la fiducia che Kant nutre nell'illuminismo in generale e nell'uso consapevole della ragione va bene? quindi partiamo da uno stato di natura che è uno stato assolutamente perfettibile ma grazie agli strumenti di cui Dio ci ha dotato potremo raggiungere livelli di benessere sempre maggiori è evidente che in ambe i due casi si tratta di di mitologia insomma mitologia va bene? di credenze di visioni che hanno una loro sensatezza e sono rispondono a due a due modi di 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 pensare di sentire dell'essere umano no? che poi si possono riassumere quando diventi un po' più vecchio ai tempi miei quanto era bello quando ogni tanto facciamo questo tipo di ragionamenti quando c'era la nonna che faceva la pasta fatta ecco in quella maniera fatta a mano fatta in casa adesso questa è una nozione gastronomica e oggi la situazione è andata sempre peggiorando oh questo tipo di discorsi ripeto li troviamo anche scritti in geroglifici 2000 anni prima di Cristo in cui gli egiziani si lamentano che questa generazione di adesso il mondo è andato decadendo e forse è anche sensato fare questo tipo di ragionamenti perché l'umanità ciclicamente per dirla convico ha conosciuto i momenti di caduta e poi di ripresa di caduta e di ripresa no? anche in termini demografici climatici le pestilenze le guerre eccetera eccetera e quindi magari quando ci troviamo in un momento di declino di una civiltà è facile rimpiangere i bei tempi che furono gli rimpiangi in senso mitologico ci crea un vero e proprio mito e quindi quei tempi che dovresti ripristinare per tornare al mosso e maiorum al costume degli ali eccetera eccetera e invece poi ci sono dei momenti storici che sono invece ascendenti quindi parti da una situazione tutto sommato negativa ma pian piano ottimisticamente guardi al futuro fasi di espansione dopo l'anno 1000 poi si arriva alla pestilenza del 300 e quindi si va declinando e si rimpiange il bel tempo che fu adesso dico per dire evidentemente quindi che ci siano queste due tendenze nell'umano in generale ma anche nel singolo essere umano è chiaro che un giovane un ragazzino in linea di massima per come è programmato biologicamente fisiologicamente dovrebbe porre vive Dio pone tutte le sue speranze le sue aspettative nel futuro se avete 18 anni a che cosa pensate in che cosa potete sperare che cosa vi conviene mitizzare il passato forse sì l'infanzia un'infanzia felice e va bene ma avete tutta la vita davanti come si suol dire e dunque le speranze vengono riposte nel futuro allora se questo discorso lo facciamo per un'intera società per un'intera epoca per un'intera civiltà allora a quel punto creiamo uno spunto mitologico che politicamente ha anche senso cioè dire guardate adesso la situazione è una situazione abbastanza deteriore ci sono molti noti problematici ma stiamo lavorando per risolvere questi problemi quale politico non ricorre a questo tipo di argomenti in una maniera o nell'altra o almeno ricorreva perché oggi giorno sembrerebbe che anche sembra che abbiano anche esaurito le parole di speranza per il futuro va bene oppure viceversa si stava meglio quando si stava peggio avete sentito questo tipo di affermazioni no? e quando magari queste considerazioni le fanno le persone un po' più in lago gli anni quindi magari quelli della mia generazione iniziano a fare queste considerazioni poi io posso anche relativizzare essere consapevole di questo e dunque lo metto tra parentesi e dico beh in parte queste considerazioni possono anche avere un fondamento razionale forse si stava meglio quando si stava peggio ma tutto sommato dipendono dal fatto che io sono vecchio e dunque faccio riferimento alla vita che ho già vissuto non a quella che ho davanti perché quella che ho davanti implica un tempo in cui non ci sarò più che è molto vicino che si appresta sempre di più per ragioni diciamo biologiche per ragioni anagrafiche ok? quindi diciamo ecco adesso vi ho dato una chiave di lettura antropologica nella visione occidentale e non solo in quella occidentale ma da sé ci sono queste due tendenze opposte una prima tendenza è quella di anticipare all'inizio dei tempi il luogo in cui la società era perfetta i lupi e gli agnelli andavano d'accordo e tutto filava liscio va bene oppure come dice russo all'inizio dei tempi lo stato di natura gli uomini erano sì selvaggi ma non c'era uno stato di guerra di tutti contro tutti e le prime tribù le prime comunità umane erano delle comunità in cui tutto sommato si era felici perché si era innocentemente votati a godere dei frutti della natura la natura non è affatto matrigna ma è tutto sommato una madre benigna che ci concede i suoi frutti le nostre prede in questi clani in queste comunità si viveva secondo giustizia secondo uguaglianza e così via russo mitizza questa epoca sicuramente sì sicuramente sì gli uomini di Neandertal o i Cro-Magnone probabilmente hanno avuto ben altri problemi quindi mitizzare l'età dell'oro mettendola nel passato e operazione si può fare filosoficamente nessuno ce lo impedisce ma tuttavia insomma anche qui realisticamente ecco e metterla nel futuro metterla nel futuro ha il vantaggio che ancora tutta da realizzare ed è un classico schema che ci viene in qualche maniera dal cristianesimo oggi no domani nemmeno dopo domani nemmeno ma arriverà un giorno in cui per i primi cristiani il ritorno di Cristo era domani vigilate tenete sempre accesa la lampada di notte perché non sapete quando può ritornare il Cristo il futuro lo posso fare perché questo progetto è del tutto nuovo e è in grado di modificare il futuro no ma se io mi baso su un progetto che riprende un passato di cui io non so neanche l'esistenza hai ragione ma qualcuno crede di conoscere il passato di avere nozione del passato i poeti servono a questo no la narrazione biblica serve a questo i miti servono a questo ci fu un'epoca in cui un'epoca gloriosa scusate Tolkien che cosa fa che operazione fa quella delle fiabbe da che mondo è mondo è un'operazione di questo ci fu un'epoca gloriosa in cui a dominare il mondo era una razza divina gli elfi in cui regnava la pace era l'età dell'oro quella di Aurora poi poi ci sono state delle catastrofi il male ha infettato per così dire il mondo è penetrato nella terra di mezzo e sono cominciate le rivalità e le guerre e nuove genie di creature hanno invaso la terra di mezzo orchi orchetti e altre mostruosità del genere il male ha infettato il mondo ed è iniziata questa guerra tra il bene e il male ci fu dunque un'epoca gloriosa che forse va ripristinata oppure l'epoca gloriosa non c'è mai stata il male c'è sempre stato ma abbiamo crediamo di avere finalmente la ricetta giusta gli strumenti giusti la razionalità la tecnologia la religione la fede l'america che vi devo dire che ci consenterà domani di realizzare un'epoca una società che non c'è mai stata ben inteso ma che possiamo aspirare a costruire insieme walk in progress siamo molto difettosi procediamo per tentativi procediamo per strappi ma procediamo e dobbiamo avere fiducia nel fatto che l'illuminismo che cos'è la metafora è quella della luce sempre la metafora della luce magari è una luce molto ristretta è piccolina ma questa luce piccolina guida comunque i miei passi magari mi fa vedere la zona intorno non metto il piede in fallo o se lo metto in fallo poi sono in grado in qualche maniera di recuperare il giusto sentiero questa è la fiducia che anima chi più chi meno evidentemente qualcuno è invasato da questa fiducia qualcuno è più realistico Kant fa parte di questi personaggi che crede nelle potenzialità della ragione e crede fermamente in quella che è la missione dell'intellettuale cioè i filosofi illuministici in primis Kant credono nella funzione dell'intellettuale engagé per così dire impegnato cioè credono che gli intellettuali lui è un professore universitario gli uomini di scienza possono dare un contributo decisivo e debbano dare abbiano il dovere morale di dare un contributo decisivo al progresso dell'umanità credono che la conoscenza razionale ci possa salvare scusate l'uomo ha sempre creduto forse illudendosi nel fatto che la conoscenza ci possa salvare che sia la conoscenza di Dio la conoscenza religiosa i riti una forma di conoscenza ci può salvare anche a livello individuale a livello spirituale no scusate se uno va in terapia il meccanismo della terapia Freud non funziona forse nella stessa maniera ieri era la malattia oggi ho iniziato il mio cammino di guarigione domani forse ci sarà la guarigione debbo mirare alla guarigione e che vuol dire mirare alla guarigione vuol dire fare questo cammino che è un cammino di conoscenza di autoconoscenza alla fine del tunnel c'è la luce ma non vale forse anche a livello individuale Marx non è la stessa cosa oggi le contraddizioni del capitalismo la disuguaglianza l'uomo che opprime l'altro uomo domani lo costruiremo insieme anzi è la storia che va in quella direzione ci sarà la società perfetta certo ci arriveremo attraverso una serie di travagli perché la storia funziona per travagli ma ci arriveremo comunismo eccetera 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 cioè i meccanismi sono sempre gli stessi va bene quindi o ritorno nel passato o vado verso il futuro Kant va verso il futuro è un progressista e ritiene che che gli intellettuali non solo possano ma debbano abbiano il dovere di impegnarsi di dare le indicazioni per realizzare questa società del futuro poi sarà il re di Prussia sarà Napoleone successivamente ancora Napoleone non è la stella di Napoleone ancora non è sorta all'orizzonte siamo ancora a 1795 evidentemente ma insomma saranno i politici a realizzare questo ma io intellettuale ho il compito di consigliare di indicare la strada eccetera eccetera l'intellettuale impegnato fa questo poi ci sono epoche di decadenza in cui gli intellettuali non si occupano più di dare indicazioni all'uomo politico ricordatevi per esempio l'epoca dell'ellenismo no? in che c'è Platone ancora Platone si sforza di dare indicazioni forse ci crede dopodiché i filosofi successivi iniziano a tirare i remi in barca perché ormai c'è l'epoca di Alessandro Magno non si interessano più di politica e si occupano della salvezza dei singoli Epicuno gli stoici eccetera eccetera quindi è una questione epocale questo è il motivo per cui prima dicevo lo stato di pace deve essere dunque istituito e competere la libera scelta dell'uomo libera scelta dell'uomo quella U maiuscola che è guidata che deve essere guidata dalla ragione e quindi dagli intellettuali e quindi da Kant questo è il motivo per cui ha scritto questo libritto se lo so potete tranquillamente risparmiare primo articolo definitivo per la pace perpetua la costituzione civile di ogni stato deve essere repubblicana adesso dobbiamo chiarire il significato di questi termini quindi se la costituzione civile di ciascuno stato non è repubblicana non si può realizzare la pace perpetua guardate questo è un concetto abbastanza tutto sommato moderno oggi magari in maniera molto ipocrita per alcuni versi comunque oggi noi possiamo credere o affermare che la pace del mondo ammesso che a qualcuno interessi effettivamente la pace del mondo si potrà realizzare soltanto quando i regimi democratici democratici e poi la parola democratico va spiegata si affermeranno in tutto il globo del racquio finché ci saranno regimi tirannici autoritari dispotici eccetera eccetera anche se sulla carta sono tutti democratici sulla carta ben inteso finché ci saranno stati dispotici terroristici e così via è inutile parlare di pace del mondo perché ci sarà sempre guerra per colpa di questi terroristi eccetera eccetera di questi stati dispotici eh vi suona questa idea poi può essere utilizzata ripeto in maniera puramente strumentale o in maniera sommamente ipocrita però ha senso indubbiamente ha senso allora qui Kant non usa il termine democratico anche perché Kant non è un democratico al limite è un liberale è un liberale cosa vuol dire quindi repubblicano due mentre l'Europa la pace perpetua è quella dell'Europa vada sì le monarchie costituzionali per esempio non vanno bene cioè all'epoca sono tutti i regimi monarchici anche il regime in cui si trova Kant quello che gli paga lo stipendio a fine mese è monarchico lui è un fedele suddito del re di Prussia dunque è monarchico e allora che sta dicendo Kant è un pericoloso subversivo perché scrivere una cosa del genere finché tutti gli stati non diventeranno repubblicani è inutile parlare di pace questa è la prima condizione non una precondizione è una condizione standard siamo entrati nel no nell'ambito degli articoli definitivi allora qui con repubblicano Kant intende una uno stato una forma di stato non dispotico non assolutistico quindi per repubblicano non intende una repubblica come la intendiamo noi oggi intende uno stato di diritto uno stato di diritto quindi va benissimo anche una monarchia costituzionale vi ricordate qual è la differenza tra stato di diritto e stato assoluto? rex facit legem lex facit regem lo stato assoluto è quello in cui la volontà del re è la legge è la legge è sopra la legge nel senso che la crea la parola del sovrano è la legge luigi quattordicesimo per esempio il principio dello stato e quindi la sovranità si basa sulla legge e lo stesso sovrano è vincolato dalla legge il bill of rights inglese o quello che nel frattempo stavano realizzando nella Francia rivoluzionaria per la quale Kant ha un debole molto spiccato molto spiccato non per la Francia in sé perché poi la Francia diventerà nemica della Prussia ma nel 95 avevano concluso la pace di Basilea quindi la Prussia si era staccata dalla coalizione quindi andava bene così in quel momento lì va bene e nel 91 la Francia si era data una costituzione da monarchia assoluta era diventata monarchia costituzionale la rivoluzione aveva diciamo retroagito in questa maniera cioè era andata verso il modello inglese per capirci e dunque costituzione repubblicana significa non uno stato che non abbia un monarca quindi c'è sempre una dinastia di monarchi mi sta benissimo il monarca purché sia un monarca di tipo inglese cioè un monarca che eserciti la sua funzione di capo dello stato all'interno però di uno stato di diritto quindi vincolato da una serie di norme e queste norme istituiscono il potere legislativo affidandolo al Parlamento e nel Parlamento ci sono i rappresentanti del popolo eccetera eccetera questo intende Kant per stato repubblicano quindi all'imite lui è contro le monarchie assolute il che comunque all'epoca è un pensiero notevole abbastanza rivoluzionario anzi direi decisamente rivoluzionario che guarda con un occhio di particolare riguardo la situazione francese Kant spera nel fatto che il progetto illuministico possa essere in qualche maniera diffuso dalla Francia rivoluzionaria poi la Francia rivoluzionaria non si dimostrerà diciamo ecco all'altezza delle speranze di Kant poi Kant nel 1804 muore dunque non farà in tempo a vedere l'epoca napoleonica e tutti gli sviluppi successivi quindi Kant fornisce la sua definizione di Repubblica la Costituzione Repubblicana implica 1 la libertà dei cittadini libertà in uno Stato di diritto 2 il contratto e la sottomissione alla legge 3 l'uguaglianza giuridica tutti uguali davanti alla legge tutti sottoposti alla legge per contratto è la visione di John Locke facciamo un contratto questo contratto genera per così dire una serie di norme e tutti quanti noi contraenti noi cittadini ci sentiamo vincolati e quindi ci sottomettiamo non al potere assoluto e arbitrario di un sovrano leviatano ma ad un potere costituito che deve valorizzare difendere e far rispettare i termini stessi del contratto il contratto che abbiamo sottoscritto io e te eccetera eccetera chiaro? questo è lo Stato di diritto e siamo tutti uguali davanti alla legge in base a questo contratto la Costituzione interna repubblicana è l'unica che può indurre uno Stato a pattuire la pace per Peipa con gli altri Stati perché sarebbe richiesto l'assenso dei cittadini per l'entrata in guerra questa è la speranza di Kant speranza che poi storicamente verrà delusa a più riprese cioè che cosa sta dicendo qui? sta dicendo la seguente cosa siccome lo Stato di guerra lo Stato di guerra in una situazione del genere in un regime del genere deve essere votato dalla maggioranza dei parlamentari non è che il re si sveglia la mattina questo lo poteva fare appunto Luigi XIV come esempio del sovrano assoluto non è che il re si sveglia la mattina e decide di fare guerra a destra e a banca no in uno Stato si fatto repubblicano c'è uno Stato di diritto è il Parlamento che decide l'entrata in guerra la dichiarazione di guerra eccetera eccetera quindi la maggioranza dei parlamentari ma i parlamentari chi sono? sono i rappresentanti della cittadinanza i rappresentanti del popolo per così dire e i rappresentanti del popolo possono essere così idioti o così corrotti o così poco rappresentativi da costringere il popolo stesso i cittadini a fare la guerra cioè andare a morire ammazzati in una guerra più o meno sensata o insensata comunque perché dovrebbero mettersi in questa condizione? dunque se tutti gli stati si danno una forma repubblicana oggi diremmo democratica i parlamenti X piuttosto che Y non voteranno mai e poi mai l'entrata in guerra di quello Stato ora voi capite che si tratta di una pia illusione una pia illusione no? oggi evidentemente smentita dai fatti ma sarà smentita dai fatti immediatamente dopo nel corso della storia ottocentesca e novecentesca le guerre continueranno senza troppi problemi è vero? pensate che l'entrata nella grande guerra dell'Italia beh lì è interessante perché per esempio il Parlamento alla vigilia della prima guerra mondiale il Parlamento italiano era assolutamente contrario della maggioranza dei parlamentari all'entrata in guerra dell'Italia ed era il Parlamento che doveva ratificare l'entrata in guerra ma il re e il capo del governo avevano siglato un trattato segreto senza comunicare nulla al Parlamento un mese prima i famosi patti di Londra che impegnavano l'Italia a entrare in guerra il 24 maggio 1915 e il Parlamento obtorto collo sarà poi costretto a ratificare post quem la decisione di entrare in guerra quindi veramente obtorto collo poi quando ci sarà il duce sarà lui a dichiarare guerra punto e basta e a comunicarlo dal balcone di Piazza Venezia agli italiani no? ieri i nostri ambasciatori hanno consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e di Gran Bretagna eccetera eccetera quindi l'idea di Kant ci può stare per quanto insomma la storia non gli darà ragione però insomma è una cosa in più indubbiamente quindi sarebbe richiesto l'assenso ai cittadini per le entrate in guerra e nulla è più naturale del fatto che dovendo decidere di far ricadere su se stessi tutte le calamità della guerra essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco cioè se a dichiarare lo stato di guerra devono essere gli stessi personaggi o i loro rappresentanti che poi dovranno combatterla questa guerra e patire loro in prima persona il disastro economico la distruzione delle case la morte dei figli eccetera eccetera beh ci penseranno bene non una ma dieci volte prima di dichiarare guerra quindi stati repubblicani oggi diremmo democratici in guerra c'entrano ha senso ha indubbiamente senso ha indubbiamente senso per uno stato autoritario o totalitario l'entrata in guerra è molto più veloce molto più rapida e così via entro certi limiti è così però purtroppo non basta questo tipo di principio dal momento che comunque gli stati sedicenti o di fatto democratici le guerre le fanno le hanno fatte le continuano a fare eh poi propagandisticamente si può sempre dire che le fanno perché vengono aggrediti non sono mai loro ad aggredire vengono sempre aggrediti dal nemico esterno che li provoca a destra e manca i giapponesi a Pelarbur le Twin Towers gli aeroplani che si schiantano contro le Twin Towers e Bin Laden eccetera eccetera e Saddam Hussein tutti questi pericolosi criminali sono loro che vanno a stuzzicare e quindi le democrazie sempre in nome della libertà questo tipo di discorsi li conosciamo molto bene il commento di Kant a questo articolo contiene una discussione intorno alla differenza tra repubblicanesimo e democrazia va notato che Kant usa una terminologia assai diversa dalla nostra talvolta rovesciata Kant distingue fra forma imperi e forma regiminis forma dell'imperio e forma del regime e per imperio intendiamo il oggi intenderemo il governo forma di governo e forma di stato quindi per regime intendiamo la forma di stato delle istituzioni mentre per forma imperi intendiamo la forma di governo d'accordo? allora guardate forma di governo ci sono tre forme di governo dai tempi dei greci a oggi il concetto è rimasto lo stesso il governo di uno solo che chiamiamo monarchia monos arcomai il governo di pochi che chiamiamo oligarchia o aristocrazia oligarchia è il governo di pochi e poi il governo di molti che chiamiamo democrazia va bene? invece quindi questo per quanto riguarda la forma di governo per quanto riguarda la forma di stato cante ne riconosce fondamentalmente due ed è quella differenza sostanziale a cui facevo riferimento prima lo stato dispotico e lo stato repubblicano per dispotico intendiamo la res privata cioè lo stato e faccenda privata del sovrano l'età se va come dice luigi quattordicesimo lo stato è il sovrano e quindi la forma di governo è affidata esclusivamente alla volontà del sovrano la seconda modalità Eleonora è quella della res pubblica cioè non è una cosa privata del sovrano ma è una cosa pubblica che riguarda tutti i cittadini e se parliamo di res pubblica quindi di governo repubblicano quello che noi oggi chiameremmo democratico in qualche maniera o liberal democratico ovvero stato rappresentativo eccetera eccetera allora c'è necessariamente la distinzione tra il potere legislativo e il potere esecutivo in base alla nota teoria di Montesquieu per cui i poteri devono essere divisi e tre partiti in modo tale che l'uno controlli l'altro il potere esecutivo il potere legislativo il potere giudiziario allora in una forma di governo dispotico non solo lo stato appartiene al sovrano e la parola del sovrano è legge ma il potere è indiviso cioè il sovrano ha nelle sue mani il potere esecutivo quello legislativo cioè di fare le leggi e il potere giudiziario e lui il giudice supremo in uno stato repubblicano così lo definisce Kant va bene in uno stato repubblicano invece a essere sovrana è la regge l'ex facit regge e il potere è tripartito è diviso per cui il soggetto che ha in mano il potere esecutivo non è lo stesso che ha in mano il potere legislativo che è affidato alla camera o alle camere se si tratta di un sistema bicamerale senato e camere dei deputati oggi oppure camera dei comuni e camera dei lord nel sistema anglosassone eccetera eccetera e allora qual è la condizione che pone qui Kant quella che bisogna realizzare in ambito di politica interna affinché si dia la pace perpetua si possa aspirare alla pace perpetua quindi il primo articolo recita così solo quando tutto il concerto di stati avrà raggiunto o tenderà a raggiungere la forma repubblicana solo in quel momento si potrà aspirare alla pace perpetua finché ci saranno stati dispotici non repubblicani allora la pace perpetua rimarrà ancora una prospettiva non realizzata o non realizzabile che tipo di condizioni ci sono quindi devono essere stati realmente repubblicani per come lo intendiamo noi oggi no possono essere stati anzi solo nella mente di Kant stati monarchici purché siano costituzionali parlamentari cioè conformi alla teoria liberale quella di John Locke o quella di Adam Smith che è l'inventore del liberismo economico contemporaneo di Kant e così via libertà quindi si intende sia in termini giudici in termini politici sia in termini economici quindi Kant da questo punto di vista è un liberale è anche democratico no democrazia all'epoca ha un valore negativo come ce l'aveva all'epoca dei Greci messa in bocca a Platone democrazia è una parolaccia e non solo messa in bocca a Platone anche messa in bocca ai principali intellettuali filosofi del tempo nel 700 e nell'800 salvo Rousseau ma Rousseau è un maledetto in un certo senso per gli stessi illuministi tra parentesi il termine democrazia è una vera e propria parolaccia democratici sono personaggi come Mazzini per esempio ecco Mazzini è un democratico ce l'avete presente Mazzini Giuseppe Mazzini no? avete presente che corso Giuseppe Mazzini incrocia la via Cavour e piazza Vittorio Emanuele ce l'avete preso di pati di risorgimento ecco c'è un piccolo problema la via che incrocia è intitolata a un noto criminale condannato a morte in contumacia da quelli a cui è intitolata la via che incrocia cioè Giuseppe Mazzini condannato a morte in contumacia da quel regno di Sardegna su cui governava su cui regnava su cui governava Cavour come primo ministro e regnava Vittorio Emanuele II e quindi esule in Inghilterra in Gran Bretagna al tempo perché era democratico perché democrazia ancora nell'Ottocento è una parraccia il democratico è quello che vorrebbe dare potere al popolo universalmente inteso ecco Kant anche lui considera alla fine del Settecento il termine democrazia in termini negativi cioè per democrazia si intende il despotismo della maggioranza che in un regime altrettanto pericoloso altrettanto corrotto quanto l'assolutismo monarchico quindi altro che democratico non è affatto democratico il termine democrazia poi diventerà un termine positivo soltanto nel corso del Novecento per noi oggi adesso è uno slogan per cui siamo in teoria tutti democratici eccetera eccetera e questo Alessandra è uno dei temi più studiato più dibattuto che tu studierai approfonditamente all'università ovvero il regime democratico o i regimi democratici hanno questo problema di fondo cioè come selezionare le classi dirigenti se la selezione delle classi dirigenti è una selezione efficace funzionale per cui mette in condizione di governare i migliori non solo i più rappresentativi ma anche i più preparati o i migliori poi bisogna vedere che cosa si intende per migliore vada sì allora le democrazia potranno funzionare relativamente bene fermolestando il ricambio fermolestando la perfettibilità del regime per cui il regime democratico è eternamente imperfetto è eternamente debole ma è forte nel fatto che è in grado di autocorreggersi in corso d'opera per così dire per cui se un governo non funziona bene verrà sostituito con un altro governo eccetera eccetera però rimane il problema di fondo come selezionare le classi dirigenti e una delle strategie che è stata ipotizzata da un grande filosofo americano che si chiama John Dewey è esattamente questa cioè avremo una classe dirigente degna di nota nella misura in cui il popolo se parliamo di soffraggio universale e all'epoca il soffraggio universale a limite non si declinava in termini maschili poi anche femminili successivamente sarà abbastanza preparato abbastanza evoluto da esprimere la classe dirigente migliore cioè se non puntiamo sull'educazione dei più e quindi sulla scuola pubblica in particolare e quindi non eleveremo il senso civico e la cultura politica dei più mai e poi mai essi esprimeranno una classe dirigente degna di nota quindi una classe dirigente degna di nota deriva da un popolo istruito educato alla cultura politica questa è un'idea che ha indubbiamente senso poi ci sono altri strumenti di controllo per esempio la stampa il famoso quinto potere che ha una funzione o dovrebbe avere una funzione fondamentale non di voce del padrone ma di controllo dell'azione politica di critica di osservazione e di mobilitazione dell'opinione pubblica quando le cose non funzionano ecco purtroppo mi sembra di poter dire che anche questo tipo di progetto sia andato declinando e forse proprio per questo le democrazie si sono sempre più svuotate di sostanza e sono diventate oggi come sostiene Paul in cruce sono diventate puramente formali quindi post democrazie perché se la stampa se i media non controllano non svolgono la loro funzione ma sono come dire inchinati servi di chi detiene il potere chi detiene il potere è espressione di una popolazione di un popolo sempre più disinteressato sempre più disattento sempre più ingolfato di idee diciamo campate in aria o imboccato dalla propaganda o etero diretto da meccanismi consumistici economicistici finanziari che nulla hanno a che vedere con la politica beh vada sì esprimeranno delle classi dirigenti sempre più servili sempre più sciocche sempre più incompetenti eccetera eccetera forse ha ragione John Dewey ma qui stiamo andando molto lontano il problema che canta non se lo pone proprio cioè il popolo il più vanno indubbiamente educati il più possibile soprattutto dal punto di vista tecnico ma sarà sempre un'elite di notabili ad esprimere la rappresentanza siamo ancora alla fine del settecento voglio dire non possiamo pretendere anzi la democrazia a questo punto e cante ha un elemento chiaro dal punto di vista storico il testo è stato prodotto mentre in Francia stava imperando il giacobinismo il terrore 93-94 il terrore le teste che rotolavano l'una pressa all'altra la dittatura giacobina quindi che ha il nome democrazia quindi canta ben presente questo pericolo la dittatura della maggioranza quella che loro chiamano democrazia è la dittatura della maggioranza ed è ancora più infernale ancora più terribile del despotismo che può essere un despotismo illuminato la dittatura della maggioranza non sarà mai illuminata è chiaro? perché solo le classi dirigenti solo i notabili hanno la capacità di e quindi ripeto la forma imperi corrisponde grossomodo a ciò che noi oggi chiamiamo forma di governo forma di governo cioè governo di uno governo di pochi governo di molti della maggioranza si riferisce sempre ai regimi dispotici dove c'è qualcuno che governa cioè esercita un potere arbitrario sui sudditi che sia uno solo che sia l'oligarchia o che sia peggio ancora il despotismo della maggioranza poco cambia cante ha in mente la catalogazione tradizionale delle forme di governo sì quelle di aristotele questo lo avete capito per aristotele la democrazia è il governo non legale dei molti un governo egoistico quello che noi oggi potremmo chiamare dispotismo della maggioranza cante chiama invece repubblica e repubblica qui è un termine positivo la forma di stato costituita attraverso il patto tra i cittadini ove i cittadini sono rappresentati nell'organo legislativo cioè ci sono libere elezioni e c'è la rappresentanza parlamentare dobbiamo cercare di utilizzare le parole come le utilizzava Kant perché se le utilizziamo dalla nostra prospettiva che è quella di una persona del ventunesimo secolo evidentemente non capiamo il senso lui che cosa ha detto allora noi oggi per democrazie che cosa intendiamo noi oggi per democrazie intendiamo dei sistemi dei regimi per l'appunto di tipo liberal democratico che vuol dire liberal democratico cosa c'è di democratico e cosa c'è di liberale allora di liberale c'è l'istituto delle elezioni a decidere a scegliere i rappresentanti che siederanno nelle assemblee legislative ovvero uno stato può essere liberale ma può non essere democratico perché il termine democrazia si associa si associerà al concetto di suffraggio universale chiaro? cioè io posso immaginare uno stato liberale che tendenzialmente è pluripartitico cioè ci sono candidati diversi e ha anche visioni del mondo visioni politiche diverse a decidere chi siede in parlamento quindi chi fa le leggi non è però tutto il popolo tutta la popolazione ma soltanto un più o meno ristretto un'opero di persone più o meno ristretto in base a quale principio? beh il principio che si utilizzava è rimasto in vigore fino all'altro ieri storicamente parlando è quello del censo è quello censitario oppure quello dell'istruzione cioè poteva votare chi aveva un certo censo oggi diremmo una certa dichiarazione dei renditi se sei povero non voti se sei povero e analfabeta non voti se hai un certo censo e hai un certo grado di istruzione allora voti per capirci quando nasce il regno d'italia a votare mi pare l'1,5% della popolazione quindi un numero molto ristretto allora un regime può essere liberale in questo senso ma può non essere democratico se per democrazia intendiamo un regime che è comunque liberale quella è una precondizione quindi basato sul principio di rappresentanza di libera elezioni del fatto che posso scegliere il partito X o il partito Y ci deve essere quantomeno possibilità di scelta quello è liberale se in più c'è il suffraggio universale quindi votano tutti i cittadini a compimento della maggiorità si intende quell'ultimo vincolo l'unico vincolo che è rimasto i bambini infanti neonati non possono votare da sé tutti votano indipendentemente dal loro reddito e anche tutto sommato dal loro grado di istruzione anche se lo Stato ha l'obbligo esiste l'obbligo di legge che oggi è stato portato a 16 anni per cui le scuole devi frequentare almeno fino a 16 anni quindi si dà per scontato che tutti abbiano un certo minimo grado di istruzione minimo massimo grado di istruzione che siano poveri in canna che siano gravemente malati che siano donne uomini indipendentemente dalla razza si usava questo termine si usa ancora se lo troviamo ancora nella Costituzione dal credo religioso tutti uguali una testa un voto per democrazia oggi intendiamo questa roba qui ma uno Stato può essere tranquillamente liberale ma non democratico mi spiego? e lo è stato storicamente oggi sulla carta tutti gli Stati sono liberaldemocratici allora lui utilizza il termine democrazia in senso negativo perché la democrazia può essere intesa in senso negativo se stacchiamo il termine democrazia dal termine liberale allora la democrazia per come la intendiamo noi oggi in occidente che cos'è? è un'estensione del regime liberale a tutta la popolazione attraverso il suffraggio universale mi spiego? ecco perché parliamo di liberaldemocrazia diverso invece un regime di democrazia popolare in senso russoiano in senso giacobino in senso bolshevico in senso oggi cinese o nordcoreano che cosa significa? significa che lì innanzitutto non esiste l'alternanza non posso votare x o y c'è un sistema monopartitico che sia il partito bolshevico che sia quello giacobino cioè un sistema monopartitico che governa e fa le leggi per conto del popolo per conto del popolo e che cos'è il popolo lì? il popolo sulla carta tutta la popolazione ma di fatto cante ritiene e ha ragione se si riferisce in un certo senso al giacobinismo è una vera e propria dittatura del partito di maggioranza cioè chi è che decide chi è amico del popolo e chi è nemico del popolo lo decidiamo noi giacobini una ristretta minoranza lo decidiamo noi bolshevichi lo decido io Lenin e io Trotsky e poi domani lo decide Stalin o lo decide Benito Mussolini quando capo del partito fascista diventa anche capo del governo e abolisce tutti gli altri partiti punto quindi il capo del partito è anche il capo dello Stato e quindi rappresenta tutto il popolo e allora lì abbiamo sulla carta una democrazia ma io governo amministro il potere per conto del popolo viva Dio anzi ho fatto la rivoluzione proprio per il popolo ma quale popolo questo popolo che cos'è cioè capite qual è la differenza fondamentale nella visione liberal democratica il punto di partenza è il singolo individuo obesianamente locchianamente inteso il singolo individuo che fa un contratto con gli altri individui e delega il potere a se io invece intendo la democrazia popolare non come declinazione e accordo tra i singoli individui ma come sapete termine popolo gente volgo eccetera eccetera sono dei singolari plurali lo intendo come un'unica testa come un'unica entità il popolo e chi è il popolo è chiaro? e quindi la mia visione è quella del popolo dunque sono oltremodo democratico ma sono veramente democratico secondo la chiave di lettura liberal democratica quella di origine locchiana manco per niente anzi il contrario la dittatura della maggioranza ecco perché Cante qui dice democrazia uguale dittatura della maggioranza va bene? siamo alla fine del settecento Cante evidentemente ha sotto gli occhi quella realtà non può immaginare scenari da ventesimo e da ventunesimo secolo viva e Dio è meno male per lui in un certo senso quindi quello che lui ha davanti è due forme di regime quello dispotico quello che lui scarta per così dire è quello liberale quello repubblicano che lui chiama repubblicano e quello repubblicano è basato su libere elezioni termo restando che il diritto a votare è riservato soltanto ad una minoranza della popolazione cioè quella che ha un certo senso un certo grado di istruzione ma insomma ad aumentare il livello di istruzione della popolazione come dire illuministicamente ci stiamo lavorando con l'enciclopedia con l'opinione pubblica che andiamo rafforzando a destra mac cioè rientra nel progetto illuministico chissà che un domani non si allarghi ulteriormente che la gente non diventi più ricca complessivamente l'idea della speranza è quella ma non tutto il potere al popolo al volgo ai ecco che può essere manovrato e i più sono così ma in cante può come dire avere una visione progressista e quindi illuministicamente sperare e immaginare scenari in cui il suffragio piano piano si allarghi quanto si allarghi beh di acqua sotto i ponti ne dovrà ancora passare parecchia quindi per il momento all'epoca di cante democrazia come vi ho detto prima è ancora una parolaccia è ancora una parolaccia per noi non lo è più anche se oggi purtroppo se per democrazia intendiamo soltanto la democrazia in termini puramente formali sta quasi diventando una parolaccia ma più una parolaccia non è una parolaccia ma evidentemente svuotata di sostanza e beh diventa qualcosa di piuttosto farsesco ecco andrebbe recuperata la polpa la sostanza diciamo che il concetto di democrazia diciamo che tende anche un pochino a perdere i tuoi valori se schianti hanno troppo di risulti perché era nata questa forma di problema era nata per una cittadina e tutti più o meno riconoscevano tutti sapevano brava certo e tutti partecipavano e se non partecipavano ti vedevano proprio a prendere bravissima infatti Rousseau quando parla di democrazia non intende la Francia l'Europa intende Ginevra intende la piccola città la piccola comunità che era poi lo stesso modo in cui lo intendevano i Greci Atene Tebbe che ne so ecco la dimensione è quella certo e attenzione poi c'è anche un'altra distinzione democrazia diretta e la nostra invece è una democrazia indiretta quella che ha in mente Rousseau e che qui canta e sta criticando è la democrazia diretta quella assembleare cioè che il popolo possa riunirsi tutto insieme ma quante persone si possono riunire tutte insieme 5.000 10.000 1.000 e procedere a votazione direttamente è difficile oggi noi diamo per scontato che una democrazia sia sempre e comunque una democrazia indiretta cioè il passaggio al discorso della rappresentatività del voto è necessario vada sì questa è un'altra cosa importante però capito qual è il problema il punto è per dirla con Diui o con Kant e così via è che la gente si dovrebbe interessare a questi argomenti se non ti interessi alla cosa il potere comunque andrà per conto suo di fatto è quello che sta avvenendo cioè tu ti interessi a TikTok e a Black Friday si rimolessando e poi te fregano in un'altra maniera pensi di essere libero e di raggiungere un qualche tipo di benessere e di felicità comprando accontentato di altre stupidaggini tanto il potere ti fa la cresta e ti cammina in testa e dunque forse il sogno l'utopia del progressismo kantiano dell'illuminismo si è decisamente arenato contro questo scoglio oggi quindi non ha più un mordente la politica è morta perché a nessuno interessa più di tanto anzi non interessa più di niente siamo ingolfati di altre cose nessuno più ha fiducia ed è forse un segno dei tempi nel fatto che la politica praticata non solo detta ma prima bisogna quantomeno capire le parole della politica io sto cercando disperatamente quantomeno in maniera critica di dotarvi delle parole del lessico minimale per poter dire e capire la politica secondo articolo il diritto internazionale deve essere fondato su un federalismo di liberi stati qui stiamo parlando di diritto internazionale allora vedete come possiamo realizzare la pace perpetua allora in primo luogo parliamo di ordine interno tutti gli stati devono essere stati repubblicani se ci sono stati autoritari o dispotici è inutile parlare di possibilità di pace perpetua poi come facciamo a eliminare lo spettro della guerra dobbiamo costituire una federazione di liberi stati e quindi più che una federazione qui parliamo di una confederazione visto che si tratta di liberi stati che rimangono poi ognuno sovrano a casa sua come gli individui si danno una costituzione così i popoli organizzati negli stati onde evitare il conflitto devono darsi una costituzione questa costituzione dei popoli tuttavia non può essere simile alle costituzioni che istituiscono una sovranità deve essere dunque federale cioè il modello è lo stesso modello di OBS quello che vale per gli individui come facciamo a imporre la pace beh dobbiamo fare un contratto tra singoli individui qui il contratto deve essere fatto tra stati ma siccome deve essere fatto tra stati e gli stati non possono rinunciare alla loro sovranità allora è necessario che lo stato sia uno stato federale in cui ciascuno di questi stati deve rimanere libero e sovrano la guerra è sempre contraria al diritto gli stati che si fanno la guerra non accettano alcuna sottomissione a un diritto superiore anche se a parole tutti inneggiano ai grandi filosofi del diritto internazionale quindi Kant critica la nozione di guerra giusta la guerra non può mai decidere questioni di diritto la ragione condanna la guerra come procedimento giuridico se facciamo una federazione di stati realizziamo quella situazione diciamo di pace internazionale perché abbiamo un diritto comune a tutti gli stati quindi i motivi per fare la guerra cessano non hanno più rilevanza dovrebbero avere più rilevanza cioè non esiste più una guerra giusta la guerra giusta si basa su un concetto di legge di giustizia che è proprio di questo di quello stato ma se noi ci mettiamo d'accordo e creiamo una situazione di diritto che vale sia per me che per te come posso giustificare io la guerra giusta dal mio punto di vista se il mio punto di vista è lo stesso tuo non so se mi spiego cioè io per fare una guerra giusta mi debbo riferire a questo punto al diritto internazionale ma il diritto internazionale mi vieta la guerra dunque guerre giuste non se ne possono stare quello a prescindere ma lì ci arriviamo già dal primo articolo nel senso che i rappresentanti del popolo i rappresentanti della gente dei cittadini mai e poi mai voteranno per la guerra ma in più abbiamo un'altra garanzia che il feitus l'alleanza appunto parliamo di confederazione è comune a tutti ci rega tutti insieme allora gli stati per quale motivo si federano insieme per quale motivo nascono le confederazioni per far fronte a un nemico esterno ed è un'alleanza militare cioè noi non ci facciamo guerra perché ci dobbiamo difendere al nemico esterno qui il nemico esterno non c'è quindi vale che noi non ci facciamo guerra appunto e basta siamo federati in questo senso è chiaro? ovvero tutti quanti ci riconosciamo in un diritto in una legge che è quella della federazione che in qualche maniera è comune a tutti quanti quindi se io ho una contesa con l'altro stato così come tra cittadini perché a che serve la legge scusate in uno stato civile a che serve la legge? la legge serve al fatto che ciascuno di noi non si fa giustizia da solo cioè per evitare proprio quella situazione in cui io prendo la pistola e sparo per vendicarmi per farmi giustizia no la giustizia è amministrata dallo stato e quindi quando io voglio giustizia vado in tribunale mi rivolgo al giudice prima l'autorità pubblica e sicurezza perché pretendo giustizia perché voglio che la legge sia applicata perché altrimenti se ciascuno si facesse giustizia per conto suo non sarebbe più uno stato di diritto sarebbe anarchia sarebbe guerra di tutti contro tutti allora se la stessa regola la facciamo valere tra stati nessuno stato aggredirebbe l'altro o meno estrema razio lo potrebbe fare ma in primo luogo andrebbe a rivolgersi al potere federale alla costituzione comune per chiedere giustizia come oggi in teoria all'assemblea delle nazioni unite è lì che io vado a chiedere giustizia quindi io non inizio una guerra per conto mio prima di aver chiesto giustizia in un'assemblea che dovrebbe riconoscere un diritto quale per tutti questa è l'idea che è un'idea geniale in un certo senso che Kant propone come soluzione un fedus pacificum quindi una lega della pace che non è una semplice pace è un patto che si propone di porre fine a tutte le guerre per sempre quindi a questo noi aspettiamo a questo noi una lega della pace un fedus no il termine latino fedus pacificum quindi un'unione un patto per la pace mentre i patti si fanno in genere tra stati o tra soggetti per difendersi da un terzo aggressore un terzo potenziale aggressore qui il patto è tra tutti per la pace fermo restando che lo devono fare tutti cioè non ci stanno terze posizioni lui propone questo discorso a livello europeo una volta che tutti si sono messi d'accordo e si sono riconosciuti in una confederazione perché mai si dovrebbero far guerra potrebbero farsela solo o potrebbero fare guerra soltanto quando il patto e la legge si dimostrasse del tutto inefficace cioè per lo stesso motivo per cui gli individui dopo aver dato tutto il potere al leviatano vedessero nella maggior parte dei casi la loro vita nuovamente messa in pericolo quindi se il leviatano era in grado di garantirmi la sicurezza e la pace a sto punto mi difendo da solo ecco il fetus pacificum potrebbe essere rotto interrotto soltanto in una situazione del genere ma se tutti gli stati sono repubblicani e quindi tutti sono tenuti sotto scacco sotto controllo da libere elezioni diciamo che la questione potrebbe essere un'altra potrebbero due paesi facendo parte della stessa confederazione finire per anche due per dinamiciare a livello di dare altri due paesi che sono in contesa però a quel punto interviene per esempio la confederazione ma qui la confederazione è tra tutti gli stati stiamo parlando di una dimensione che Kant immaginava europea così come oggi parliamo dell'organizzazione delle Nazioni Unite che comprende tutti gli stati del mondo compreso Repubblica di San Marino Stato Città del Vaticano per dire ecco quindi se tutti gli stati del mondo sono rappresentati in teoria gli unici nemici che rimangono fuori sono gli alieni e manco tanto adesso ho usato il termine i marziani ma infatti scusate Hollywood in periodi in cui magari c'erano più i nemici ufficiali prima di inventarsi prima che cessassero di essere nemici sovietici e prima che iniziassero di essere nemici i vari terroristi arabi e così via islamici hanno fatto hanno fatto vari film sull'invasione degli extraterrestri i visitors questi cosi terribili no? il giorno del giudizio questa roba qui e quindi c'è sempre bisogno di un nemico probabilmente forse è questo che non funziona ecco non è molto fattibile perché il fetus pacificum non funziona quindi questa lega non mira a procacciare potenza ad uno stato ma solo la conservazione e la sicurezza e la libertà di uno stato per sé e ad un tempo per tutti gli altri stati confederati senza che a questi sia conciò lecito sottomettersi cioè siamo tutti pari nessuno li sottomette dall'altro ma tutti quanti in questa maniera facciamo questa lega per la pace Kant tratta di fattibilità della sua idea prospettando la possibilità che un forte stato repubblicano che tenda per sua natura alla pace perpetua possa diventare il primo nucleo della federazione Kant afferma che in teoria sarebbe possibile una repubblica universale ma ritiene che ciò non sia possibile concretamente possibile cioè un'altra possibilità è uno potrebbe dire scusa ma invece fa una confederazione tra liberi stati perché non facciamo tipo un leviatano come nella maniera di Ops però repubblicano cioè un super stato in cui tipo l'Unione Europea ma come stato non che rispetti la sovranità dei singoli paesi quindi ci siano tedeschi italiani francesi tutti insieme tipo Stati Uniti d'America anzi l'America che si estende a tutto il mondo con libere elezioni si fa per dire in tutto il mondo perché non fare una cosa del genere ecco Kant dice no perché quello sarebbe comunque un pactum subjektionis cioè uno dei popoli si dovrebbe sottomettere occorrerebbe il rischio di sottomettersi ad un altro popolo all'epoca lui ha in mente cioè lui ha in mente per esempio la Francia rivoluzionaria cioè un conto è una confederazione in cui la Prussia l'Austria la Francia la Spagna abbiano pari dignità e pari diritti all'interno di una confederazione un conto è uno stato pure repubblicano per così dire ma che con le buone o con le cattive si estenda tutta l'Europa cioè Napoleone che lui ancora non conosce ma insomma poi ci sarà cioè Hitler cioè un conto è realizzare l'Unione Europea mantenendo la sovranità dei singoli stati quindi liberi stati in un'unione che è super partes ma rimaniamo liberi ognuno per conto liberi si fa per dire manteniamo la nostra sovranità poi dipende a che punto la manteniamo la nostra sovranità un conto è un super stato repubblicano per carità e a quel punto Kant dice no così potrebbe non funzionare sono sicuro che non funziona non è realistico che funzioni perché a quel punto qualcuno imporrà con la forza infatti uno dei problemi fondamentali dell'Unione Europea tra i tanti problemi è stato e continua ad essere il fatto che quando si è fatto l'euro e poi l'Unione Europea è un'unione fondamentalmente economica si è scelta una politica economica in particolare a discapito degli altri cioè l'economia e la situazione italiana quella della Grecia quella del Portogallo erano ben diverse e continuano a essere ben diverse sotto vari profili fiscale industriale imprenditoriale finanziario da quello della Germania da quello della Danimarca da quello dei paesi del nord infatti la Gran Bretagna si è svincolata e si è andata poi non è mai aderito all'euro tra parentesi allora se il modello che abbiamo in fin dei conti sposato era il modello dominante cioè quello tedesco e quindi tutto il resto d'Europa si è dovuto uniformare più o meno a quello tedesco facendo gli interessi dell'economia tedesca che ha danneggiato indubbiamente gli interessi della politica economica italiana piuttosto di quella portoghese e così via cioè alla fine c'è un modello dominante uno che è più forte dell'altro e che impone la propria politica agli altri questo è il pericolo che Kant vorrebbe evitare non è non è esatto esattamente leggo l'ultimo articolo così finiamo terzo articolo definitivo per la pace perpetua il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell'universale ospitalità e questo è veramente enorme questo diritto perché apre questo terzo articolo perché apre alla posizione ai terzi che fin adesso abbiamo parlato del singolo stato che deve essere repubblicano del rapporto tra stati che si deve basare sulla confederazione e qui si parla della universale ospitalità e di diritto cosmopolitico e qui è modernissimo anticipa quasi i diritti umani il diritto cosmopolitico che vuol dire? vuol dire che tutti gli esseri umani che siano francesi italiani indiani pakistani cinesi indipendenti o apolidi hanno i medesimi diritti per natura in quanto esseri umani sono i cosiddetti diritti umani e queste condizioni si basano su universale ospitalità cioè questa confederazione una volta nata si apre come almeno sulla carta l'Europa oggi si apre ai popoli terzi in termini di ospitalità la lega poiché la lega prospettata da Kant istituisce un livello superiore di diritto superiore al tradizionale diritto internazionale allora Kant tenta di definire le basi giuridiche di questa nuova confederazione il nuovo livello di diritto viene chiamato diritto cosmopolitico ed è incentrato sulla nozione di ospitalità il diritto di ospitalità è il diritto di uno straniero di non essere trattato ostilmente quindi di essere accolto è un diritto di visita aspettante a tutti gli uomini quello cioè di offrirsi alla socievolezza in virtù del diritto del possesso comune della superficie della terra noi siamo tutti uguali e quindi tu che vieni da fuori hai diritto ad essere mio ospite e io ho il dovere io stato confederato di accoglierti in quanto ospite nei limiti dell'ospitalità ben inteso questo che cosa significa? che non so una volta nata questa confederazione immaginiamo a livello europeo tenderà rispetto ai popoli terzi cioè i popoli diciamo fuori dalla civiltà qui Kant ha in mente chi? ha in mente le colonie ha in mente i selvaggi buoni o cattivi che siano le Americhe l'Africa l'Asia all'epoca è l'Europa il centro del mondo e quindi che cosa sta dicendo Kant? sta dicendo che questa confederazione se non vuole poi evitare diventare motivo di guerra con altre realtà con altri futuri stati deve basarsi sul diritto cosmopolitico e stendere questo diritto al resto del mondo il mondo